a palbio film festival 2024 tutto incentrato sul rapporto tra letteratura scrittura e immagini come avete come avete scelto le opere si ha detto bene giustamente sono tre anni che facciamo questo festival e il fulcro il centro il focus è sempre l'obiettivo è sempre quello di cercare di raccontare film che provengano da libri da sceneggiatura importanti è per quello che c'è anche il premio alla sceneggiatura e quindi diciamo la selezione è stata proprio mirata in questo senso come tutti gli anni e per il periodo in cui ci collochiamo facciamo la selezione fino al giorno prima della stampa del catalogo perché siamo proprio tra il festival di venezia e il festival di roma quindi aspettiamo che finisca il festival di venezia e lì poi facciamo un attimo la sintesi infatti siamo molto molto orgogliosi di avere quest'anno due titoli che provengono appunto dal festival di venezia che sono leopardi e questa sera che è domenica l'attachement che anche in questo caso un film francese che uscirà il prossimo anno quindi una grandissima anteprima che proviene da un film da scusami da un libro anche in questo caso quindi è un doppio invito il festival alla lettura e al cinema come se le opere andassero vissute indipendentemente l'una dall'altra perché non tutti trovano che le trasposizioni cinematografico televisive delle opere letterarie siano poi altrettanto belle o veritiere o quindi come se invece andassero vissute come due opere primigeni giusto assolutamente sì secondo me il festival si pone anche un obiettivo cioè quello di poter far capire al pubblico che l'arte appunto è varia a varie sfaccettature lo stesso racconto si può raccontare sulla carta o per immagini e può avere due visioni completamente diverse ma non necessariamente una migliore dell'altra quindi sono due punti di vista perché appunto chi lo racconta o chi lo scrive hanno ovviamente un punto di vista artistico evidentemente molto spesso diverso diciamo piuttosto raro che conviva lo scrittore con il regista ci sono stati casi ma insomma non li abbiamo in questa edizione quindi sì secondo me anche un invito appunto al pubblico a far capire quanto l'arte quanto uno stesso racconto possa essere molto diverso a seconda del punto di vista